Darco, veramente una bella serata per tanti motivi, il tuo gol, la vittoria, il passaggio del turno, il ritorno dei tifosi, scegli tu da dove cominciare. Sì, la cosa più importante è che abbiamo passato in turno e che finalmente abbiamo rivisto i tifosi. Poi, vedendo la partita, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto anche tre gol e poi nel secondo tempo abbiamo mollato un po' che non ci deve succedere più perché se in campionato facciamo un tempo così andrà diversamente. Ma come ho detto già prima, dobbiamo essere contenti perché abbiamo passato un turno e niente, da adesso dobbiamo prepararci bene per l'inizio del campionato. È un Verona che ha trovato anche delle soluzioni offensive importanti, ha fatto gol in vari modi, calcio piazzato, punizione diretta ma anche azione. Eh sì, ma questa squadra ha dimostrato anche in passato dei lavori, adesso dobbiamo continuare. È arrivato un nuovo mister che ci ha dato le sue idee di gioco e dobbiamo seguirlo e andare al massimo sempre come abbiamo fatto anche prima. Ci racconti un po' la punizione che ha portato il tuo gol? Hai parlato con Miguel prima di calciare? Eh sì, prima perché lui calcia molto bene, prima ho chiesto a lui se volesse calciare ma mi ha lasciato e poi ho fatto gol, sono contento. Ecco, tanti i tuoi compagni che avevano già giocato qui l'anno scorso come Tames, Ilic, non avevano mai sentito il Bentegodi e visto emozioni nei loro occhi. Sì è vero, anche diciamo così è già un'altra cosa, questo è un calcio vero però speriamo nel tempo che ci saranno anche molti più tifosi che sono stati oggi. E adesso testa Sassuola? Eh certo, inizia un nuovo campionato, ci aspetta una buona squadra che anche nel passato ha dimostrato un valore veramente buono e hanno cambiato anche l'altore però noi dobbiamo guardare noi stessi e seguire il mister che ci chiede.